Sono nati i due produttori, Shannon che ha già lavorato, come avete visto, dalle filmografie con Tarantino e David che conosciamo perché ha prodotto tra l'altro tutta la saga di Harry Potter e credo sia la prima volta che lavori con Tarantino, se le informazioni che ho trovato sono corrette. Shannon, produrre un film di Tarantino, ogni volta Quentin ci ha abituato a delle avventure come spettatori diverse che credo siano anche delle avventure produttive e questo da quello che abbiamo visto, che ho visto è oggettivamente un film molto affascinante, di grande intrattenimento ma anche molto complesso produttivamente. E allora vorremmo sapere qualcosa sul rapporto produttrice-regista. Davide, tu sei abituato a portare lo spettatore in altre dimensioni, in dimensioni che hanno a che fare con il fantastico Harry Potter e gli animali più fantastici. E qui andiamo in un mondo in cui la realtà e la fantasia che è risolta in modo davvero straordinario da Tarantino attraverso il cinema e la tv. Chiedo anche a te, non la cosa che ho chiesto a Shannon, ma com'è stata questa esperienza da producer? Un privilegio, il primo lavoro che mi ha avuto il mio lavoro, ho avuto la fortuna di lavorare con alcuni direttori in mia carriera, ma questa è stata una veramente unica esperienza. Quentin è un film editor master, che ha controllo di ogni aspetto della produzione. Quando you read his script, there's such detail, it's like reading a novel, and then as you see him bringing it to life with just this incredible family in front of and behind the camera, his attention to detail, his endless invention, and yet at the same time the ease and with which he does it, creating an atmosphere of excitement, of possibility and of inclusivity. He creates through, I've worked with many directors who create through pain, Quentin creates through pleasure and it has been one of the greatest experiences of my career. ... Ok, mi sembra una definizione magnifica che useremo naturalmente spesso, dei registi che appunto possono creare dolore, disagio, il piacere che garantisce Tarantino. ... ...